Con la A, con la M, con la E, con la R, con la I, la C, la A, America, America! La America! La L a! La L a! La L a! La L a! Esatto! Sobre 28 minuti! E' la prima parte! Se avrà il marco della fine Pasquale Guerrero! America 1, Junior 0!